Io non ho detto che è stata una partita positivissima, non è che faccio i fuochi d'artificio, però era difficile. Questa differenza che tu dici, che lei dice, mi fa piacere che la nota, però penso anche che ci siano dei valori generali. Queste squadre si sono incontrate tanto spesso negli ultimi anni e c'è sempre stata una partita molto equilibrata, quindi significa che le squadre bene o male si equivalgono. Nei ultimi anni abbiamo sempre vinto noi, speriamo che sarà così anche a ritorno, però non ho parlato di partita molto positiva e chiudere il discorso già all'andata, tutti quanti saremmo stati contenti, però il livello è molto alto, questa è una squadra costruita per fare la Champions, sono scesi giù nel nostro torneo, io ho grande rispetto per loro, per il loro allenatore che secondo me li fa giocare bene e la mia positività viene anche perché penso che siano una squadra buona e penso che noi potremmo fare ancora di più, ancora di più lo faremo a ritorno, ma penso che un pareggio qui non sia una cosa che deve lasciarmi andare via da qua triste. Abbiamo lavorato anche questa settimana, a volte faccio didattica, a volte faccio delle partitine con tanti tanti cross ripetuti per vedere insomma di riempire bene l'aria e quello forse ha funzionato, di riempirla bene quando dobbiamo difendere e quello di nuovo non ha funzionato, però Llorente va a prendere un uomo che forse poteva prendere Mancio, se ci dividevamo meglio l'area potremmo non prendere questo gol, non l'ho rivisto benissimo, l'ho rivisto un po' di fretta, quindi a volte va analizzata, la certezza è una, devo lavorarci meglio, devo lavorarci di più, devo spiegarglielo meglio perché poi alla fine un gol si prende, se sono 3-4 gol presi così vuol dire che devo lavorarci, un mio amico carissimo Fabio mi dice sempre gestisci, domina e comanda la fase difensiva e sarai padrone del mondo, la fase difensiva negli ultimi 16 metri è tanto importante e devo lavorarla meglio. La domanda su Lukaku, fa parte dei più forti attaccanti al mondo secondo lei? Sì. Il nome di Haaland, di questa gente qua Lukaku è lì su? Io penso che sia uno degli attaccanti più forti del mondo, ovviamente Haaland forse adesso è il più forte del mondo, però penso che se ne prendiamo due a confronto non è possibile, penso che se prendi 8-10 attaccanti in giro per il mondo, i più forti, lui ci sta dentro tranquillamente.